Buongiorno a tutti. Oggi affrontiamo, sempre nell'ambito degli elementi di elettromagnetismo per l'elettrotecnica, i fenomeni di elettrici e i condensatori, argomento che è contenuto nel capitolo 2 di slide e capitolo 2 anche del testo di supporto. Benissimo. Di che cosa si tratta? Si tratta di studiare le interazioni tra il campo elettrico e le cariche elettriche, non tanto il moto delle cariche elettriche, quelli sono i fenomeni di conduzione ovviamente, ma le cariche elettriche in quanto tali, in particolare sia quelle libere che quelle legate, quindi che sono vincolate negli atomi, nelle molecole, nei reticoli cristallini, dei mezzi materiali ovviamente. Anche qui, come vedremo, abbiamo bisogno di due campi vettoriali per sviluppare lo studio. Uno è il campo elettrico, che già conosciamo, e l'altro è lo spostamento elettrico, indicato con D, dall'inglese displacement, che forse a voi suona un po' più nuovo. Credo che ci siate passati vicino nel corso di fisica senza approfondire troppo di che cosa si tratta. In realtà ha un ruolo importantissimo proprio nel qualificare questi fenomeni. Facciamo anche un'ipotesi semplificativa che in realtà non è indispensabile, ma ci aiuta a chiarire e a mettere in evidenza le interazioni di elettriche rispetto ad altri fenomeni che qui appaiono, in questo contesto appaiono secondari. Quindi consideriamo il campo elettrico conservativo, perché tale è il campo elettrico in posizioni quasi stazionarie, ovvero a rotore nullo e quindi esprimibile come l'opposto del gradiente del potenziale elettrico scalare che già abbiamo incontrato in questa relazione. Vi ho già detto che in fisica il campo conservativo, che io indico con C, era stato indicato come campo elettrostatico, ma qua come vedete non pretendo che la situazione sia statica, mi basta che sia quasi stazionata. Bene, detto questo, vediamo un attimo di capire come sono legati i due signori, i due campi vettoriali che vi ho presentato. Lo spostamento elettrico è dato dal campo elettrico moltiplicato per epsilon, ed epsilon io la chiamo permittività dielettrica, si misura in farad per metro e di conseguenza, la conoscete già solo che probabilmente vi è stata indicata come costante dielettrica, più frequentemente che permittività dielettrica, e con la sua unità di misura è tale che il prodotto di permittività per campo elettrico fa sì che lo spostamento elettrico abbia una dimensione di coulomb su metro quadro, quindi se volete di carica per unità di superficie. È un'osservazione che vale la pena di fare perché poi ci tornerà utile più avanti. Vediamo un attimo brevemente di dare delle indicazioni sulla permittività dielettrica, è una proprietà caratteristica del mezzo e in particolare per il momento esaminiamo o richiamiamo delle proprietà relative ai mezzi uniformi. Allora quando il mezzo è uniforme per quanto riguarda appunto il comportamento della permittività dielettrica, si dice che la permittività dielettrica può essere chiamata costante dielettrica, eccolo qui, ma non è la condizione più generale, perché solo in alcuni casi succede che si possa parlare di mezzo uniforme di costante dielettrica. In particolare questo avviene quando prima di tutto il mezzo è omogeneo, quindi in ogni punto all'interno del mezzo, in ogni punto più all'interno del mezzo la permittività presenta lo stesso valore, poi deve essere anche lineare il mezzo, che vuol dire che la permittività non varia al variare dell'intensità del campo elettrico e deve essere anche isotropo, che vuol dire che la permittività non varia al variare della direzione del campo elettrico, il campo elettrico è un vettore quindi ha una direzione. Quando sono vere insieme queste proprietà si dice che il mezzo è uniforme e allora si può parlare a senso compiuto di costante dielettrica. È una situazione che questa questa che voi avete già incontrato perché è proprio in queste condizioni che vi sono state date introdotte le espressioni che il campo elettrico assume quando è prodotto da diverse tipologie di carica libera, che adesso vi richiamo. Ora una carica libera puntiforme Q, la vedete qui, produce nei punti che la circondano come P, un campo elettrico e questo viene raccontato e spiegato in fisica che è dato dalla carica diviso 4 volte π ε, la costante dielettrica, per la distanza tra i due punti al quadrato e poi il campo vettoriale a direzione del versore che unisce, del raggio vettore si può dire del versore che unisce i punti Q e P che vedete indicato lì. Allora questa espressione è nota, se questa espressione la moltiplichiamo per ε, quindi coerentemente con la definizione che ho dato di spostamento elettrico qua, vedete quello che succede, otteniamo un'espressione simile in cui ε non compare. Questa espressione appare indipendente da ε. In modo analogo, se la carica non è puntiforme ma è distribuita in un volume, credo sappiate che il, ecco la qua, la carica contenuta in un volume τ, credo sappiate che il campo elettrico è data da questa espressione dove al posto della carica Q diviso per R² compare la densità di carica diviso per R² per il versore raggio vettore e poi tutto integrato nel volume τ in cui è distribuita appunto la carica. Qui di nuovo, se moltiplichiamo per ε, otteniamo un'espressione equivalente dello spostamento elettrico che è indipendente dalla permittabilità o dalla costante di elettrica in modo specifico, visto che siamo in mezzo uniforme. Ancora più interessante, e lo capiremo meglio più avanti, è considerare il campo elettrico, lo spostamento elettrico che è prodotto, che sono prodotti da una distribuzione superficiale di carica, quindi una carica distribuita su una superficie, ecco qui la situazione la vedete illustrata in questo disegno, in questo caso si considera una densità superficiale di carica e l'integrale va fatto sulla superficie dove appunto è spalmata questa carica elettrica e di nuovo si tiene un'espressione per lo spostamento elettrico in cui ovviamente non compare la costante di elettrica. In tutti questi casi quindi vediamo che d non dipende dalla costante di elettrica ma solo da come la carica è distribuita e dalla geometria del sistema e quindi cominciamo a vedere una proprietà importante di d che è legato direttamente alle cariche senza passare per la costante di elettrica. Questa proprietà è resa ancora più evidente dalla legge di Gauss che pure avete già visto però appunto credo associata al campo elettrico invece che allo spostamento elettrico che ci dice proprio usando le espressioni precedenti comunque sia distribuita una carica in una certa regione dello spazio, punto, superficie, volumetto eccetera, se io integro il flusso del vettore d prodotto da tale carica su di una superficie chiusa, la vedete la superficie chiusa, questa SC qui, che racchiude completamente la carica, allora il risultato dell'integrale di superficie del vettore spostamento elettrico su tale superficie chiusa è esattamente uguale alla carica che era chiusa all'interno, comunque essa sia distribuita. Ecco questa è una proprietà importantissima del vettore spostamento di perché come vedete prescinde completamente dalla presenza, dal valore della costante dielettrica ma possiamo dire anche una cosa in più, mentre le espressioni precedenti erano state desunte in mezzo uniforme, quindi dove epsilon è costante, lineare eccetera, isotropa eccetera, questa proprietà che scrivo qui vale sempre comunque per lo spostamento elettrico, anche quando i mezzi non sono uniformi, anche quando ci sono più mezzi ciascuno con la sua permittività combinati insieme nello spazio che stiamo considerando. È davvero la proprietà fondamentale del vettore d e qua la vediamo espressa in termini integrali, c'è un integrale di superficie evidentemente e a secondo membro c'è una carica che se pensiamo a una distribuzione densitaria volumica di carica anche lui risulta da un integrale di volume della densità appunto. Ecco appunto che facciamo questo sviluppo adesso. Possiamo anzitutto trasformare l'integrale di superficie a primo membro tramite il teorema della divergenza, è una proprietà dei campi vettoriali che ci dice, lo vedete, tutto questo primo membro si può scrivere come un integrale di volume invece che di superficie, volume è quello interno proprio alla superficie chiusa, della divergenza di D integrata nel volume e vale questa uguaglianza, è uno dei teoremi fondamentali dell'analisi vettoriale. Ma secondo membro, come vi dicevo, abbiamo una carica Q che posso scrivere come, se si tratta di una densità volumica di carica, come la densità volumica di carica integrata nel volume. Allora, guardando i due membri che abbiamo ottenuto, sono tutti e due integrali di volume che devono essere uguali per quello che vuole la legge di Gauss e perché ciò sia vero qualsiasi sia il volume bisogna che le due integrande siano uguali, ovvero si ottiene che la divergenza di D, la prima integrata, è uguale a ROC, la seconda integrata. E questa è ancora la legge di Gauss scritta stavolta in forma differenziale o locale invece che in forma integrale. Esprime esattamente la stessa proprietà della forma integrale che vediamo qua sotto. E ci dice delle cose importanti. Voi sapete che la divergenza rappresenta i punti in cui le linee vettoriali nascono oppure muoiono, i punti a divergenza positiva sono le fonti, le sorgenti delle linee vettoriali e i punti a divergenza negativa sono i pozzi, i punti dove le linee vettoriali vanno a morire. E questa proprietà ci dice che appunto le sorgenti sono le cariche positive, i sorgenti delle linee vettoriali di D, e i pozzi sono invece le cariche negative o le densità di cariche negative. Ancora una volta vedete, scopriamo che il vettore D è direttamente legato alle cariche, diciamo così, fregandosene della permittività di elettrica. E queste proprietà che vi ho espresso in forma, la stessa proprietà in realtà in due forme, quella integrale e quella superficiale, come già ho detto, sono le proprietà fondamentali del vettore D che valgono comunque anche in mezzo non uniforme. In definitiva possiamo considerare che sono la definizione del vettore D. E quindi, come vedete, il vettore D è legato a una superficie tramite la sua definizione, scritto qui nella prima formulazione che abbiamo dato della legge di Gauss. Notate che invece il flusso di E attraverso la stessa superficie è vero che vale Q diviso Epsilon, ma solo se il mezzo è uniforme. Se il mezzo non è uniforme, il flusso di D non vale Q diviso Epsilon, assume forme diverse e più complesse. Quindi, in particolare, poi non vale assolutamente se ci sono mezzi affiancati con permittività diverse. E questa è una situazione che in campo tecnico-ingegneristico si verifica molto spesso. Ai fisici interessa poco perché loro di solito studiano il comportamento di elettrico delle cariche tipicamente nel vuoto o nell'aria dove tutto è uniforme, tutto è lineare, eccetera. Ma noi che mettiamo e costruiamo i dispositivi, dobbiamo mettere elettrici, dobbiamo mettere insieme mezzi con comportamenti diversi e a noi interessa molto quindi il fatto di individuare quali leggi valgono in mezzo uniforme e quale no. Ecco quindi che la legge scritta sul vettore D funziona, ma scritta sul vettore E, quella dei flussi, quella di Gauss, non funziona, funziona solo sul mezzo uniforme. Quindi, in definitiva, ecco cosa siamo arrivati a dire. Le proprietà del vettore E, quindi del campo elettrico, rimangono connesse agli integrali di linea, come già abbiamo fatto, perché ci servono gli integrali di linea per calcolare le tensioni, e quindi anche al suo rotore, se il rotore è nullo, il campo è conservativo, eccetera, ma assolutamente non agli integrali di superficie e alla divergenza. Solo in casi semplici e fortunati succede questo, ma in virtù del fatto che li usiamo in modo improprio, moltiplicando, dividendo per E, ci sono le proprietà che in realtà sono del vettore spostamento elettrico. Invece, le proprietà dello spostamento elettrico, eccole, sono connessi agli integrali di superficie e alla divergenza, ma in generale, come contropartita, non riguardano gli integrali di linea e rotore. Quindi sono nettamente distinti i ruoli che hanno i due campi, il primo connesso a dimensioni lineari, a domini lineari, il secondo connesso a domini superficiali. E questa proprietà ve la rappresento subito. Prima faccio subito un vi chiamo, visto che ho parlato di campo elettrico a potenziale, vi ricordo rapidamente che di fianco alle espressioni del campo elettrico che vi ho dato prima, per carica puntiforme, carica volumica, carica superficiale, con dei passaggi di analisi vettoriale si può calcolare il corrispondente potenziale elettrico scalare, ecco qui le espressioni che assume, vedete che sono espressioni scalari qua. Qua non c'è nulla di vettoriale, la cosa importante è che i raggi vettori appaiono a denominatore senza essere elevati al quadrato. Questa è una proprietà che ci potrebbe tornare utile, la cito solo an passant per passare poi a cose più interessanti appunto. E qui è la corrispondente espressione nel caso della distribuzione superficiale di carica per vedere che potenziale scalare se ne ottiene in un punto a una certa distanza. Torniamo invece al vettore spostamento elettrico e andiamo ad approfondire le sue proprietà, le sue proprietà legate alla presenza di cariche. Quindi consideriamo, ecco qui un corpo conduttore, questa specie di volume irregolare azzurro, volume irregolare perché stiamo esaminando proprietà che valgono comunque, non protendono che ci siano delle simmetrie per essere vali delle proprietà che vi illustrano. E questo volume, questo corpo conduttore è dotato di una carica elettrica, in qualche modo risiede della carica nel corpo conduttore. Il corpo conduttore è in mezzo in un dielettrico, quindi il mezzo dielettrico fa da isolamento, non permette la conduzione elettrica, non permette di asportare e rimuovere la carica dal corpo conduttore. Immaginiamo anche di essere in condizioni rigorosamente elettrostatiche stavolta, quindi non quasi stazionari, elettrostatiche. Eettrostatiche vuol dire che le cariche non si muovono e quindi la densità di corrente è nulla ovviamente se le cariche non si muovono. Ci sono ma stanno ferme e quindi in condizioni di corrente nulla nel corpo conduttore. E da questa condizione emergono immediatamente, discendono immediatamente, delle proprietà molto interessanti. prima cosa, dentro al corpo conduttore c'è un campo elettrico in generale, dobbiamo scrivere l'espressione campo elettrico, meglio diciamolo così, come la densità di corrente per la resistività, questa espressione vale sempre, ma siccome già è uguale a zero dentro al corpo conduttore, allora anche il campo elettrico è uguale a zero, come vedete. In altre parole non c'è campo elettrico dentro al corpo conduttore, il che vuol dire che il corpo conduttore al suo interno è equipotenziale, si può anche dire così, ma approfondiamo questa cosa più avanti. Tanto diciamo che se è nullo il campo elettrico, moltiplicando per la permittività si ottiene lo spostamento elettrico, anche lo spostamento elettrico è nullo. In tutti i punti qui dentro D è uniformemente nullo, il che vuol dire che le sue derivate spaziali sono nulle e quindi è costante uguale a zero, quindi nulle le derivate e siccome la divergenza è una combinazione di derivate, è nulla anche la divergenza. La divergenza di D è uguale a zero, ma abbiamo appena visto per il teorema di Gauss che la divergenza di D è esattamente la densità di carica libera e quindi la conclusione è che dentro al corpo non c'è densità di carica libera volumica nel volume. Allora dove sta la carica? Se c'è carica Q, l'abbiamo detto qua, e non può stare dentro al corpo, ma la risposta è semplice, deve stare necessariamente spalmata sulla superficie e quindi abbiamo non una distribuzione volumica di carica in questo caso ma piuttosto una distribuzione superficiale di carica ed è la situazione che ci capita di incontrare più frequentemente quando appunto carichiamo dei corpi conduttori, la carica non può che stare sulla superficie. Bene, ma non è finita lì, possiamo dire ancora qualcosa di più di questo corpo perché il fatto che il campo elettrico sia nullo in tutto il corpo vuol dire che il campo elettrico è nullo anche parallelamente alla superficie, quindi considerando la superficie estrema di che racchiude il nostro corpo conduttore e di conseguenza abbiamo che, eccolo qui, non c'è corrente nemmeno superficiale parallela alla superficie del corpo conduttore, già è uguale a zero, quindi anche lì il campo elettrico è nullo. E se il campo elettrico è nullo su tutti i punti della superficie, ecco qua che torniamo a quello che vi stavo dicendo prima, vuol dire che la superficie del corpo conduttore è una superficie equipotenziale. Ma che cosa fanno le linee vettoriali rispetto a una superficie equipotenziale? Allora per costruzione geometrica dei campi vettoriali le linee vettoriali sono necessariamente ortogonali in tutti i punti alle superficie equipotenziali. Ecco quindi che abbiamo scoperto come si presenta il campo elettrico fuori dal corpo conduttore. Dentro è nullo, l'abbiamo capito. Fuori, beh, zampilla dalle superfici, dalla superficie del corpo conduttore presentandosi in ogni punto sempre ortogonale alla superficie. Com'è possibile che succeda questo, qualsiasi sia la forma per quanto irregolare, come quella che vi presento qui del corpo conduttore, beh, questo è reso possibile da come si distribuiscono le cariche con la densità superficiale SC. Loro si assestano in modo tale appunto che sia vero tutto quello che vi ho detto, che la superficie del corpo sia equipotenziale e quindi che il vettore di E prima di tutto, e quindi anche il vettore di zampillino in modo ortogonale dalla superficie del corpo conduttore. Non è finita qui perché possiamo dare anche un altro risultato notevole. Possiamo andare a considerare un volumetto come quello che vedete qui, un cilindro di piccolissimo spessore, di piccola superficie ma di ancora più piccolo spessore. Una specie di monetina, possiamo intenderla così, la quale sta a monetina esattamente a metà della superficie di separazione tra corpo conduttore e di elettrico. Vedete che la si vede separata in due parti, quella esterna e quella interna alla superficie sigma del corpo conduttore. Allora su questa superficie, su questo volumetto, su questa monetina, noi possiamo applicare in piccolo la legge di Gauss. E allora dobbiamo cercare ovviamente il flusso di D uscente da questa monetina. Qua vediamo la situazione in sezione. Abbiamo detto che dentro non c'è vettore D, l'abbiamo detto e ridetto, c'è solo all'esterno, è zampilla verticale, ortogonale, ma attraverso la superficie laterale nemmeno c'è flusso del vettore D. Perché? Perché la superficie laterale è piccolissima, abbiamo detto che lo spessore è infinitesimo di ordine superiore, questa è la cosa giusta da dire. Pertanto l'unica superficie che dà contributo al flusso di D è la superficie di sigma rivolta al D elettrico, dove il vettore D esiste, è ortogonale, e quindi facendo D scalare il versore normale esterno a questo, si ottiene il modulo D del vettore D, perché loro due sono paralleli, moltiplicato per Ds, quindi D per Ds è il flusso del vettore D che esce dalla monetina. Ma quanto vale a questo punto la carica che sta dentro nella monetina? Sappiamo bene che la carica è distribuita sulla superficie o meglio sul pezzo di superficie racchiuso dalla monetina, questa linea azzurra scura, con distribuzione superficiale sigma e quindi la carica infinitesima che sta lì dentro è sigma di c, sigma di carica, per la superficie D sigma, perché la monetina ha superficie D sigma da una parte e dall'altra e quindi anche l'intercetta della superficie sigma ha la stessa estensione. Ora, il teorema della divergenza, il teorema di Gauss, chiedo scusa, ci dice che il flusso di D che sta qua è uguale alla carica contenuta che sta qua. E beh, ma allora ecco qui l'uguaglianza, semplifichiamo D sigma, e qua in me è venuta fuori una stupidanza, no scusate, tenendo conto che anche dell'ortogonalità che ho già citato, possiamo dire che D è uguale a sigma C, ma possiamo dare valenza vettoriale a questa uguaglianza e scrivere quindi che D uguale vettore è uguale a sigma C per il versore normale N esterno, quello che esce dal corpo conduttore e punta verso il dialettrico. Questo è il significato di N esterno. Notate che se la densità di carica è positiva, allora D è concorde con N esterno, quindi effettivamente, come vi ho sempre detto fino adesso, zampilla dalla superficie e punta verso il dialettrico. Però questa relazione che ho trovato funziona anche se sigma è negativo, perché in questo caso mi viene che D ha verso opposto rispetto a N esterno, ovvero D punta verso la superficie sigma maiuscolo, dove c'è una densità di carica negativa e lì appunto va a morire, perché in questo caso il punto con carica negativa è un pozzo, mentre nel primo caso il punto con carica positiva è una sorgente. Allora vedete che ancora una volta trovo che D è legato a informazioni di cariche e di superfici, qua ha una densità superficiale di cariche. E questo proprio possiamo dire ancora di più che D costituisce una descrizione della densità superficiale di carica dei corpi conduttori. C'è una perfetta, un legame strettissimo tra queste due quantità. D, ve l'ho appena detto, zampilla se sigma, se la densità di carica è positiva, e invece muore nel conduttore se la densità di carica è negativa. L'abbiamo già detto. Ora tutto questo voi mi direte, sì ci hai raccontato tutta questa bella storia, però vale solo in condizioni elettrostatiche, era l'ipotesi di partenza. Eccolo qua, vedete, condizioni elettrostatiche. Non ci sono moti di nessun modo di carica. Noi invece sappiamo che ci interessano le situazioni in cui ci sono moti di carica e per diversi motivi. E allora diciamo, crolla tutto appena si muovono le cariche. In realtà non è vero che crolla tutto. E questo lo vediamo considerando una serie di passaggi formali che in realtà non occorre che impariamo. Ci basta sapere che esistono, questa cosa si può dimostrare. Allora la divergenza di J è uguale alla divergenza di J, si scrive come conducibilità per campo elettrico. Quindi divergenza di conducibilità, il campo elettrico, è lo spostamento elettrico diviso la permettività, l'abbiamo appena detto. Allora se il mezzo è uniforme, portiamo gamma ed epsilon fuori da questa operazione, e quindi ottengo la conducibilità diviso la permettività per la divergenza di D. Ma la divergenza di D che cos'è? È la densità di carica, l'abbiamo appena visto più volte. Peraltro la divergenza di J, legge di continuità del campo elettrico, è meno la derivata parziale temporale della densità di carica. E quindi combinando le relazioni salta fuori che vige per la densità di carica in condizioni generali, immaginando che la carica vari e che quindi ci siano dei moti di carica per fare variare la carica nel volume, ma la cosa vale anche sulle superfici, vale questa equazione differenziale che vedete scritta qui. E questa equazione differenziale non ci vuole molto a capire che cosa significa perché vedete, ricorda molto l'equazione differenziale che governa la scarica di un condensatore. Sappiamo che ne viene fuori un'evoluzione, un modo naturale, un'evoluzione libera, chiamatela come volete, che è di tipo esponenziale e quindi monotona, che ha una costante di integrazione iniziale che è la densità di carica da cui si parla e poi un esponenziale governato da una costante di tempo TR che è scritta proprio qua, la costante di tempo. Quindi facendo tesoro delle informazioni note per i processi di scarica dei condensatori, riconosciamo che la costante di tempo è permittività diviso conducibilità o se preferite permittività moltiplicato per resistività del mezzo. Un mezzo conduttore dotato sia di permittività che di resistività. Allora per il rame quanto valgono, questo è il principe dei mezzi conduttori per impiego tecnico e rame. Faccio l'esempio per lui, solo per lui, ma è più che sufficiente. Quanto vale la resistività? In termini di grandezze fondamentali è 1,8 per 10 alla meno 8 ohm su metro e la permittività è circa uguale a quella circa uguale a 8,8, poi vediamo altre cose, non la paragono a nessuno, a niente adesso, per 10 alla meno 12. Allora se facciamo il prodotto di questi due numeri ci viene fuori 1,6 per 10 alla meno 19 secondi. 10 alla meno 19 secondi, vi ho fatto un discorso sugli ordini di grandezza nel capitolo precedente, a questo punto avete capito benissimo che è un numero mostruosamente piccolo, ma veramente mostruosamente piccolo. Pensate che il periodo alla frequenza di 1 GHz è dell'ordine di 10 alla meno 9 secondi, qua siamo 10 alla meno 19, è estremamente più rapido dei tempi caratteristici dei fenomeni che si sviluppano a frequenza di giga, pensate che roba. Che vuol dire che anche se io provoco delle alterazioni alla distribuzione di carica, questa si adegua istantaneamente di fatto alla situazione elettrostatica e quindi trovo che l'analisi elettrostatica che ho fatto prima vale anche in condizioni variabili di fatto, perché il sistema risponde immediatamente assumendo situazione elettrostatica, distribuzione elettrostatica. Di fatto è sempre assicurato. Ancola qua. Vabbè, detto questo, quindi quelle proprietà che abbiamo esaminato poco fa sono di impiego assolutamente generale nei casi proprio tecnici che possono interessare a noi o potete incontrare nella progettazione dei dispositivi in corso successivo e cose del genere. Benone, andiamo avanti. Adesso, su questo principio, vale la pena di fare anche questa osservazione, si basa proprio sulla efficacia di questi fenomeni, del fatto che le cariche si distribuiscono immediatamente in modo da rendere nullo il campo elettrico all'interno, se funzionano gli schermi elettrostatici e anche il più famoso degli schermi elettrostatici è la gabbia di Faraday che permette di fare degli esperimenti impressionanti, forse qualcuno li ha visti, di una persona racchiusa dentro una gabbia, nemmeno uno schermo continuo, basta che sia una gabbia, a maglia sufficientemente fitta, perché anche se la gabbia è colpita da fulminazioni, la persona all'interno non viene assolutamente messa in pericolo. E per inciso, questo è il motivo perché se siete in mezzo al temporale, siete in auto, con tanti fulmini, rimanete dentro l'auto, perché l'auto fa la gabbia di Faraday e siete assolutamente protetti. Va bene, andiamo avanti e vediamo un'altra proprietà collegata a questi fenomeni. Cosa succede dello spostamento elettrico lontano dalle superfici dei corpi conduttori? Dentro i corpi conduttori è nullo, sulle superfici abbiamo visto poco fa cosa vale, è lontano dai corpi conduttori, nel mezzo di elettrico dove continuano a svilupparsi le sue linee. Beh, qui possiamo fare un procedimento, un esperimento mentale, un procedimento mentale più che fisico. Potrebbe essere fatto anche in forma fisica, è più interessante farlo in forma mentale ed è questo. Immaginiamo di aver individuato una superficie equipotenziale, ciascuna di quelle tre lineette rosse che vedete lì, in ogni punto ortogonale alle linee vettoriali che sono invece quelle azzurre, e immaginiamo di prendere una lamina metallica tipo le pellicole di alluminio che si usano per incartare i cibi e di adagiarla esattamente sulla superficie equipotenziale. Che cosa facciamo in questo modo? Facciamo due cose, la prima è che non alteriamo assolutamente i campi perché la superficie è metallica ma essendo esattamente adagiata su... quindi tenderebbe a diventare equipotenziale. Essendo adagiata già di per sé su una superficie equipotenziale non altera niente, si trova già equipotenzializzata, no? E quindi lascia i campi come sono, sia D che C. Ma succede qualcosa sotto l'azione dei campi, se c'è lo spostamento elettrico D, c'è il campo elettrico E, eppure affiancato a lui, come sempre, viaggia un abbraccetto come abbiamo visto e quindi questo provoca una separazione di carica, le cariche negative che stanno nello spessore infinitesimo della nostra lamina metallica, le cariche negative tendono ad andare verso le sorgenti del campo elettrico, mentre le cariche positive tendono ad andare verso i pozzi del campo elettrico. quindi orientarsi secondo dei dipoli elettrici, questo tendono a fare le cariche elettriche. Allora, questa separazione di carica fa sì che qui compaia sulle due superfici, appunto una densità di carica superficiale positiva a destra, dove le linee di D zampillano, e una densità di carica negativa a sinistra, dove le linee di D penetrano nella lamina e sembra che vadano a morire. Allora, questa densità di carica rispettano di nuovo le proprietà che abbiamo visto prima. Quella negativa si esprime come vettore spostamento elettrico per vettore N esterno dal lato negativo e visto che i due vettori sono opposti nella direzione controversi, se ne ottiene una densità di carica negativa, mentre dalla parte opposta i due vettori sono equiversi e quindi si ottiene una densità di carica positiva. In altre parole, grazie alla metallizzazione delle superfici equipotenziali, così si chiama questo procedimento, siamo in grado di materializzare la presenza del vettore D come densità di carica superficiale anche all'interno dei mezzi dielettrici. Bene, adesso è arrivato il momento di fare qualche considerazione sulla permettività dei diversi mezzi. Ogni mezzo dielettrico ha il suo comportamento dielettrico che è governato dalla relazione D uguale a epsilon per E, ovviamente come abbiamo detto e ridetto in questa lezione, però dobbiamo anche dire che ogni mezzo dielettrico ha comunque, rispetta anche la legge del campo di corrente, solo che presenta una conducibilità gamma così piccola da avere un campo di corrente così piccolo, così infinitamente marginale, nella stragrande maggioranza dei casi da poter essere trascurato. Ed ecco quindi che in queste situazioni quello che emerge come fatto evidente e dominante è il fatto dielettrico, mentre diciamo così scompare il fatto elettrico che è questo. Questo in generale. Tra tutti i mezzi, quello che ci interessa di più perché è il riferimento di tutti gli altri è il vuoto, è il mezzo dielettrico per eccellenza dove la conducibilità lì sì, assolutamente nulla e per il quale la permittività è quella del vuoto, è costante, è omogenea, è lineare, tutto quello che volete, quindi è davvero una costante dielettrica e vale appunto 8,8 con un sacco di decimali dopo che non ci interessano per 10 alla meno 12. L'importante è l'ordinanza farat su metro ovviamente. Tutti gli altri mezzi materiali che non sono il vuoto, siano essi gassosi, liquidi o solidi, hanno una permittività più o meno diversa da quella del vuoto e che può essere costante o meno a secondo che il mezzo sia uniforme e viene messa in evidenza la loro permittività non in termini assoluti, cioè in termini da misurare in fara su metro, ma piuttosto rapportandola a quella del vuoto. Quindi vediamo con la permittività che si chiama relativa, eccola qui, quanto è più grande la permittività del mezzo rispetto a quella del vuoto o più piccola. In realtà più piccola non lo è mai, tutti i mezzi hanno una permittività che è più grande di quella del vuoto, magari di pochissimo, quasi uguale ma più grande. In particolare tutto questo dipende perché succede questo fenomeno, perché succede dai fenomeni di polarizzazione che avvengono all'interno dei materiali che è come si comportano le cariche legate, che stanno nel reticolo cristallino, nelle molecole, negli atomi. Io non so se queste cose sono state un pochino descritte in fisica, sarebbe bene che i fisici le facessero queste, ma non so fino a che punto le chiariscono. Ve le accenno soltanto qui perché non è mia responsabilità spiegarvi il comportamento dei materiali. vi dico solo che la permeabilità relativa dell'aria è di pochissimo superiore a quella del vuoto, quindi prima approssimazione possiamo dire che la permeabilità relativa dell'aria è 1 e quindi la permeabilità assoluta è uguale a quella del vuoto. La stragrande maggioranza dei mezzi, sia solidi che liquidi, ha una permeabilità relativa molto piccola, di qualche unità, tipicamente da 2 a 6 e l'acqua, l'acqua è una che invece ha un materiale liquido ovviamente che ha una permeabilità relativa decisamente elevata a vale 80. Ci sono dei materiali strani che arrivano ancora più su però sono di uso molto sporadico quindi non ve li cito neanche. In sostanza con uno o due ordini di grandezza beccate tutte le permeabilità relative, tutte le differenze di comportamento di elettrico tra i diversi materiali tra di loro e anche verso il vuoto. Il che vuol dire una cosa molto chiara a questo punto. Mentre per il campo di corrente sfruttando le differenze enormi di conducibilità o di resistività si è in grado di canalizzare magnificamente le linee vettoriali del campo di corrente appunto tutto questo qui non può essere fatto perché le permittività sono praticamente grossonualmente possiamo dire praticamente tutte uguali hanno lo stesso ordine di grandezza. E quindi è vero che nelle regioni dove la divergenza di D è uguale a zero quindi possiamo dire nei mezzi di elettrici perché lì non ci stanno le cariche abbiamo visto che le cariche stanno nei mezzi conduttori il fascio di linee vettoriali del vettore D forma un tubo di flusso. Questo si può dire certamente dove la divergenza del vettore è nulla lì posso esaminare i tubi di flusso come abbiamo fatto per il campo di corrente. Però in questo caso non sono capace di canalizzarla sfruttando il tubo di flusso sfruttando la permittività dei mezzi diversamente da quanto succede proprio per il campo di corrente. Cosa succede allora? Succede che i tubi di flusso tendono a espandersi nello spazio secondo e ad assumere delle forme geometriche che dipendono dalla disposizione spaziale di che cosa? Soltanto delle loro sorgenti che sono le cariche elettriche come abbiamo visto dove si trovano sorgenti e pozzi. E a secondo come sono configurate queste disposizioni spaziali delle cariche elettriche si sagomano i tubi di flusso del vettore D. In particolare abbiamo visto che un modo molto comodo molto facile e molto tecnico anche per sagomare la distribuzione delle cariche quelle di adagiarle di caricarle di depositarle su corpi metallici in particolare sulle loro superfici ed ecco quindi che queste forme che assumono i tubi di flusso D. dipendono dalle geometrie dei dischi scusa del vettore spostamento elettrico dipendono dalle geometrie dei corpi conduttori dove appunto stanno le cariche e arrivato a questo possiamo raccontare che cos'è un condensatore in termini campistici in termini del tutto generale tra l'altro allora è un oggetto che è costituito da due corpi metallici corpi conduttori che sono le armature tipicamente solidi ovviamente corpi appunto che hanno volumi tau A e tau B occupati dal corpo conduttore che hanno forma qualsiasi per definire il condensatore non ho bisogno di armature piane messe in modo particolare la definizione può essere data comunque basta che essi abbiano cariche opposte adagiate depositate su di essi e sappiamo che queste cariche sono distribuite con densità di carica superficiale superficialmente tra i due corpi conduttori è interposto uno o più mezzi di elettrici immaginiamo uno per semplicità che è la zona intermedia qui allora che succede in questa condizione succede che dal corpo che ha carica positiva QA più zampillano le linee vettoriali che vanno a morire nel corpo che ha carica negativa B carica uguale ed opposta a QA questo ve lo dimostro subito beh anzitutto la definizione di carica totale se sigma è la densità di carica si ottiene facendo l'integrale superficiale di tale densità sia sul primo corpo conduttore che sul secondo corpo conduttore A che sul corpo conduttore B però a questo punto ci ricordiamo che il vettore D ha proprietà fondamentale l'integrale di superficie noi facciamo questo integrale di superficie su di una superficie come quella di cui vediamo qui solo un tratto che intercetta tutte le linee vettoriali ora le linee le superfici che intercettano tutte le linee vettoriali sappiamo che si chiamano superfici tappo può essere fatto in una superficie tappo generica come questa che sta lì a metà in qualche posizione intermedia dentro al dielettrico tra le due armature ma possiamo anche posizionare la superficie tappo sui punti di nascita delle linee vettoriali quindi di fatto sulla superficie SA oppure sui lì punti dove vanno a morire le linee vettoriali quindi di fatto sulla superficie SB del secondo corpo conduttore della seconda armatura e in ogni caso quello che si ottiene è sempre la stessa portata del corpo del tubo di flusso di T teta maiuscolo quindi in definitiva scopriamo che la portata del tubo di flusso lo posso valutare sulla superficie A e viene fuori esattamente questo integrale quindi è uguale alla carica che sta in A oppure la posso valutare sulla seconda superficie della seconda armatura e allora viene fuori meno QB meno perché c'è ovviamente l'opposizione di direzione tra il vettore D che va a morire nel secondo corpo e il versore N che è sempre quello che punta verso fuori quindi in definitiva la proprietà che ne viene fuori è che la portata del tubo di flusso è uguale alla carica positiva ed è uguale all'opposto della carica negativa e quindi in definitiva la carica di un'armatura è opposta della carica dell'altra armatura questo è un fatto fondamentale per parlare di corpo di condensatore perché se così non fosse qualcuna di queste linee vittoriali non andrebbe a morire in QB e se ne andrebbe in giro per lo spazio a terminare da qualche altra parte dove ci sono le cariche mancanti del corpo B se le cariche sono opposte abbiamo la condizione necessaria per dire che questo è un condensatore per la condizione poi in realtà la condizione sufficiente è verificare che effettivamente tutte le linee partono dalla prima superficie e arrivano alla seconda bene detto questo così abbiamo chiarito la proprietà della portata del tubo di flusso adesso parliamo della tensione del tubo di flusso del tubo di flusso completo ovviamente in questo caso partendo dalla prima armatura ed arrivando alla seconda armatura le quali sono superficie equipotenziali il campo è conservativo il campo elettrico è conservativo e quindi la tensione tra la prima superficie equipotenziale quindi potenziale di A e la seconda superficie con potenziale FB è evidentemente la differenza di potenziale tra le due armature ed è proprio la tensione tra le due armature siamo in condizioni conservative la tensione è questa differenza di potenziale a questo punto abbiamo individuato la portata del tubo di flusso che è la carica A ovvero l'opposto della carica B abbiamo individuato la tensione del tubo di flusso completa dell'intero tubo possiamo fare il rapporto tra le due quantità e quello che viene fuori è per definizione la capacità che si misura in farad e questa è definita come vedete qualsiasi siano le forme geometriche delle armature e la geometria che assumono le linee vettoriali ovviamente si va bene poi a fare i conti nei casi in cui tutto questo abbia simmetrie elevate ed ecco quindi che nel caso di armature piane parallele abbiamo il classico condensatore visto anche in fisica si tratta di due armature metalliche piane parallele di pari superficie molto vicine l'una all'altra quindi a una distanza L che è molto minore della radice della superficie dobbiamo paragonare metri con metri non metri con metri quadri qui ci va la radice allora se la situazione è questa il vettore D è rettilineo eccolo qui ortogonale alle armature si mantiene rettilineo in tutto lo spazio interposto e segue quindi gli andamenti che sono schematizzati faccio una precisazione se le armature non sono vicine quello che succede è che visto come abbiamo detto poco fa le linee tengono a spanciarsi a occupare tutto lo spazio saltano fuori delle linee che fanno così e queste linee che fanno così ovviamente alterano la situazione rispetto a quella di simmetria piana che io voglio considerare in questa situazione ecco perché devo dire che L deve essere molto piccolo perché le considerazioni successive valgono e quindi che si verifichi di che ha fatto la situazione illustrata qua sotto sulla superficie SA sull'armatura SA appaiono cariche positive rivolte verso il dielettrico sulla superficie SB cariche negative rivolte verso il dielettrico la carica totale in A è opposta alla carica totale in B le linee vettoriali sono dei segmenti rettilinei che vanno da A verso B per il vettore D e anche per il vettore EC che è D diviso E allora che cosa possiamo dire? possiamo dire che la densità di carica in A è uguale a carica in A diviso S in queste condizioni tutto omogeneo quindi la carica totale diviso la superficie mi dà la densità di carica sia in A che in B e quindi le due densità di carica che si affacciano sono una all'opposta dell'altra il vettore spostamento elettrico D lo valutiamo nei punti superficiali qui della prima armatura è la densità di carica in A diviso moltiplicato per il versore che va da A verso B quindi che esce da A come abbiamo sempre scritto ma la densità di carica che sta qui e l'abbiamo scritta qua oppure se volete togliamo i pedici perché abbiamo capito di che cosa si tratta è la carica diviso la superficie a questo punto possiamo calcolare anche il campo elettrico che è lo spostamento elettrico diviso la permittività e quindi dalla precedente espressione otteniamo questa relazione e a questo punto possiamo fare l'integrale di tensione del campo elettrico ma visto che il campo elettrico è uniforme e assiale a direzione rettilinea l'integrale che dovremmo fare per calcolare il campo elettrico diventa banalmente il prodotto del modulo del campo elettrico per la distanza L tra le armature questa distanza qui ovviamente e quindi la tensione per L e l'abbiamo calcolato prima ci serve il modulo quindi ci dimentichiamo del versore che sta qua e otteniamo Q per L diviso E per S a questo punto abbiamo il legame tra tensione e carica ne facciamo il rapporto e quello che rimane è la capacità del condensatore piano e quindi l'espressione è vista anche a fisica ecco la però questo approccio qua è un risultato banale voi mi dite questo sì certo che è banale però questo approccio mi permette di affrontare casi più complessi ad esempio quello costituito che è costituito da un condensatore piano a di elettrici sovrapposti ecco qua vedete una situazione in cui non ho la stessa epsilon dove c'è in tutto lo spazio dove c'è il campo di elettrico ma due epsilon diverse può succedere questa importanza tecnica una situazione di questo tipo allora il primo di elettrico ha spessore L1 il secondo L2 e sono su uno e l'altro sovrapposti messi interposti tra le due armature che sono uguali a quelle di prima in questo caso che succede? succede che lo spostamento elettrico assume lo stesso valore qui e qui perché avviene questo? perché siccome la portata del tubo di flusso il tubo di flusso è il parallelepipedo delimitato tra le armature deve essere costante allora sia che io faccia il calcolo nel primo mezzo che nel secondo mezzo devo ottenere lo stesso risultato un po' come avevo fatto prima carica diviso superficie moltiplicato per il versore quindi D è uguale sopra e sotto invece il campo elettrico è necessariamente diverso sopra e sotto perché nel primo mezzo è lo spostamento diviso epsilon 1 e nel secondo mezzo è lo spostamento lo stesso spostamento ma diviso epsilon 2 e quindi necessariamente sono diversi sostituendo i valori precedenti che ci sono qui ecco quello che viene fuori e a questo punto calcolo la tensione stavolta è un attimino più complicato perché ho due andamenti costanti uno nel primo pezzo uno nel secondo mezzo e devo tenere conto di entrambi quindi l'integrale di linea è spezzato in due pezzi nel primo tratto è E1 per L1 nel secondo tratto E2 per L2 sostituendo A1 e A2 le espressioni trovate prima raccogliendo opportunamente si ottiene questa relazione i passaggi sono abbastanza ovvi è banale algebrina questa ma la cosa importante è che ho collegato finalmente la tensione tra le due armature la tensione del condensatore alla carica che sta sull'armatura positiva e quindi facendo il rapporto si ottiene la capacità del condensatore a dialettrici sovrapposti che assume questa espressione che si ricava proprio da qua allora voi che siete attenti alle cose che abbiamo studiato anche in teoria delle reti riconoscete che questa espressione è il reciproco della somma dei reciproci delle capacità dei singoli strati come se avessi due condensatori sovrapposti come avviene effettivamente quando si collegano in serie i condensatori un'altra situazione di condensatore composto è quella a dialettrici a dialettrici affiancati la vedete qui abbiamo ancora due dialettrici ma posti uno di fianco all'altro in questo caso separati da una superficie sigma interposta tra i due dialettrici come si vede in questo caso che cosa avviene avviene che ciò che è costante nel mezzo 1 e nel mezzo 2 è il campo elettrico perché in entrambi i mezzi bisogna che il campo elettrico sia dato dalla tensione diviso la distanza tra le armature le due armature sono equipotenziali quindi la tensione è la stessa sia tra questo punto e questo che tra questo punto e questo e pertanto il campo elettrico vale sempre e comunque V diviso L se volete per il versore normale come prima quindi stavolta sono diversi gli spostamenti elettrici il primo ottenuto moltiplicato per epsilon 1 e il secondo moltiplicato per epsilon 2 lo stesso campo elettrico ma siccome questi spostamenti elettrici individuano la densità di carica superficiale sulle armature diverse sono anche le due densità di cariche che si affacciano al mezzo 1 e al mezzo 2 eccolo qua e pertanto stavolta calcolo la carica totale Q come la prima densità di carica per la superficie S1 di armatura questa affacciata al mezzo 1 più la densità di carica sigma di carica 2 per la superficie S2 che è la parte di armatura affacciata al dielettrico 2 e quindi questa è l'espressione che si ottiene anche qui facendo il rapporto Q diviso V si ottiene la capacità e il risultato qua è proprio banale lo si vede subito lo si può scrivere in questa forma si può distribuire uno su L e distribuendo uno su L si vede che corrisponde alla capacità di due condensatori in parallelo uno quello che pertiene al primo mezzo e l'altro che pertiene al secondo mezzo è come se fossero due condensatori in parallelo un'altra geometria molto interessante da considerare è quella del condensatore cilindrico un po' come abbiamo visto il resistore cilindrico la volta scorsa a linee vettoriali radiali intendo eccolo qua abbiamo due armature cilindriche una interna con superficie SA una esterna con superficie SB coassiali e nella corona cilindrica interposta tra di loro c'è un mezzo dielettrico con permittività Epsilon con costante dielettrica Epsilon meglio dire costante perché li assumiamo certamente costante le due superfici hanno raggio RA ed RB RA picco più piccolo RB più grande e l'altezza di questo cilindro la indichiamo con A allora che succede che succede in queste condizioni succede innanzitutto che applichiamo tensione tra le due armature che è pari alla differenza di potenziale di A meno B eccola qua indicata la differenza di potenziale e in seguito a questo per ragioni di simmetria si sviluppano linee vettoriali di E e quindi di D che non possono che essere radiali come si vedono con questi segnetti che sono indicati qui benissimo allora a questo punto però dobbiamo fare un'analisi di questo tipo dobbiamo dire il vettore il tubo di flusso ha questa forma cilindrica no? le linee nascono tutte sulla superficie interna muoiono tutte sulla superficie esterna lo sviluppo è radiale del tubo di flusso però lungo il suo sviluppo il tubo di flusso come sempre mantiene portata costante allora come la valutiamo la portata costante di questo tubo la valutiamo in questo modo qui allora anzi lo spostamento elettrico la valutiamo sulla superficie interna dove c'è la carica positiva che vale Q diviso S anzi scusate no la valutiamo comunque la portata è pari alla carica Q su di una superficie di armatura Q però la valutiamo su qualsiasi superficie interposta tra le due estreme che costituiscono le armature superficie che quindi esprimiamo come due volte pi greco R per H ed R appunto è interposto tra R A ed R B ecco la qua la situazione quindi vediamo che lo spostamento elettrico per far sì che la portata del tubo di flusso sia costante uguale alla carica sull'armatura interna dicevo D lo spostamento elettrico deve variare con R eccolo qua è funzione di R lo si vede qui e analogamente è funzione di R anche il campo elettrico che si ottiene dividendo per la permittività per la costante di elettrica eccola qua ecco qui la dipendenza da R a questo punto adesso che conosco R posso calcolare la tensione stavolta sì devo fare un integrale lungo il raggio anzi segmento radiale tra R A ed R B del campo elettrico dove esso ha questo modulo in DR quindi ecco l'integrale sostituendo l'espressione del campo elettrico ovviamente di tutto questo c'è solo R che varia con DR tutto il resto è costante lo porto fuori dall'integrale devo fare la primitiva di 1 su R in DR e quindi devo cercare la primitiva che è il logaritmo e quindi risolvendo l'integrale è uno degli integrali più facili da fare si ottiene questa espressione ancora una volta ho collegato la tensione totale del sistema alla carica depositata sull'armatura interna opposta di quella sull'armatura esterna in questo caso e quindi posso calcolare la capacità carica diviso tensione che assume questa forma come vedete ricorda salvo che qui appunto abbiamo carica diviso tensione invece che tensione diviso corrente qualcosa che abbiamo trovato per il resistore cilindrico tutto sommato la conformazione geometrica è analoga posso considerare anche un condensatore sferico anche qua le analogie col resistore sferico sono molto forti quindi passiamo rapidamente allora una volta applicata tensione tra le due armature che sono superfici sferiche concentriche scopro che E e D non possono che essere radiali che il vettore spostamento elettrico è la carica sulla superficie interna sulla armatura interna diviso per 4 volte pi greco r quadro per qualsiasi posizione intermedia di raggio ovviamente e che quindi dipende da R come pure dipende da R anche il campo elettrico stavolta però dipende da R quadro come vedete eccolo qua e pertanto facendo l'integrale un po' come prima ma in questo caso devo trovare la primitiva di 1 su R quadro che non è il logaritmo ma è meno 1 su R ecco che cosa viene fuori dall'integrazione e quindi posso di nuovo calcolare la derivata di un condensatore che ha questa particolare geometria un condensatore sferico ecco quello che viene fuori ora qui questa espressione è abbastanza interessante perché possiamo vedere che cosa succede quando la superficie esterna sta a grandissima distanza dalla superficie della sfera interna tale da poter essere considerato all'infinito e questo ci dà l'espressione della capacità di una sfera isolata nel vuoto ora di sferi isolate nel vuoto ce ne sono parecchie alcune molto grandi una ad esempio è la terra quindi possiamo divertirci a calcolare la capacità che è la terra siccome il raggio terrestre è circa 6400 chilometri o 6,4 metri per 10 alla meno 6 metri vi fate un attimino i conti e scoprite che la capacità della terra quindi un corpo enorme come la terra è di soltanto 0,72 72 millifarad questo vi dà l'idea che la misura farad delle capacità è una misura veramente molto grossa visto che per esprimere la capacità della terra dobbiamo usare i millesimi di faro altro risultato interessante che possiamo fare è calcolare quanto vale il campo elettrico massimo quindi questa espressione facendo uso facendo uso del legame che abbiamo scritto qui tra tensione carica ed espressione della capacità con un semplice passaggio si ottiene che il campo elettrico si può esprimere per il condensatore sferico in questa forma e quindi se facciamo andare rb ad infinito sparisce questo rb qua abbiamo un ra che va al numeratore e si ottiene questa espressione abbiamo ancora quindi il campo elettrico che circonda una sfera elettrica una sfera conduttrice chiedo scusa carica posta nel vuoto opposta nell'aria è evidente che il campo elettrico è massimo in prossimità della sfera sulla superficie della sfera quando r vale ra e quindi il valore che ne viene fuori eccolo qui lo semplifico un attimo e pulisco voglio dire eccolo qua vale il potenziale elettrico della sfera diviso il raggio della sfera è evidente che a parità di potenziale elettrico vuol dire di tensione rispetto all'infinito mettiamo mille volt un milione di volt cose del genere il campo elettrico è tanto più intenso quanto più piccolo il raggio quindi una geometria con raggio di curvatura molto piccolo di cui la sfera è una rappresentazione locale è tale da avere un campo elettrico molto intenso in prossimità di questa singolarità diciamo ovvero lì dove ci sono delle punte nelle porzioni di superficie a raggio di curvatura molto piccolo sono di fatto delle punte si ha l'intensificazione dei campi elettrici ma non solo dei campi elettrici moltiplicando per epsilon abbiamo anche l'intensificazione la massimizzazione dello spostamento elettrico e quindi anche della densità di carica che sta lì le cariche tendono ad accumularsi superficialmente laddove ci sono raggi di curvatura molto piccoli siccome dovete leggere a rovescio questo siccome avere campi elettrici localizzati molto intensi può essere pericoloso conviene invece fare l'opposto se vogliamo limitare l'intensità dei campi elettrici dove abbiamo potenziali elevati vi ho parlato prima di milioni di volte in pianti se volete sperimentali o per fare esperienze particolari di fisica nucleare eccetera è necessario provvedere i dispositivi di raggi di curvatura sufficientemente grandi così da non raggiungere campi elettrici che siano pericolosi bene appunto questo è l'effetto delle punte ve l'ho appena descritta un'altra geometria che vale la pena di considerare ed è l'ultima è quella della linea bifilare in questo caso abbiamo due cilindri li vedete come quello che sta dentro al condensatore cilindrico solo che in questo caso sono due cilindri uguali affiancati e paralleli come faccio a calcolare la capacità di questo sistema allora almeno in prima approssimazione posso dire questo il campo che viene prodotto da ciascuno dei due cilindri dotato uno di carica positiva e l'altro di carica negativa è analogo a quello che il conduttore interno produce nel condensatore cilindrico tra i due cilindri è come se questo conduttore interno producesse campo fino a dove sta la posizione radiale dove sta l'altro conduttore e quindi eccoci qua che ci arriviamo torno al punto di partenza ecco che posso usare l'espressione in questo caso tra R0 che è la superficie del primo conduttore e H meno R0 che è la superficie del secondo conduttore che abbiamo visto prima Q diviso due volte pi greco epsilon per H per il logaritmo di H meno R0 diviso R0 questo è un piccolo errore perché qua dovevo scrivere L chiedo scusa questa è una L la lunghezza del sistema chiedo scusa bene allora questo è il contributo di uno dei due se si fa un po' di analisi si vede che l'altro conduttore che ha carica negativa dà un contributo esattamente qui verso quindi il risultato facendo la somma dei due contributi è il doppio di questo e quindi calcolando la capacità viene fuori epsilon per pi greco L diviso il logaritmo di H meno R0 diviso R0 c'è una piccola approssimazione ma comunque un'espressione sufficientemente accurata per poter essere usata nel calcolare la capacità tra i conduttori di una linea bifilare bene che cosa ha a che fare tutto questo con i bipoli condensatori quelli che abbiamo visto in reti beh in effetti sono stretti parenti perché vi ricordate quello che vi ho detto poco fa la prima armatura vede zampillare le linee vettoriali del condensatore che arrivano alla seconda armatura tutte le linee che partono da qui muoiono in qua almeno mi aspetto che succeda questo in realtà sono sicuro che avviene se escludo in modo categorico che possano disperdersi delle linee che vanno di qua e poi da qui possono arrivare delle linee che non so come arrivino di qua come faccio ad escludere queste situazioni immaginando che esista una superficie eccola qui come vedete che racchiuda tutte le linee vettoriali ovvero che racchiuda tutto il tubo di flusso per quanto strano e deforme sia che va da un'armatura all'altro e questo assicurato controllando che all'esterno della superficie sp che racchiude il tubo lo spostamento elettrico sia identicamente nullo o se volete abbia derivata nulla è più o meno equivalente a dire questa cosa bene allora se è vero questo quello che succede è che è garantito condizione necessaria e sufficiente perché ci sia a questo punto posso dire necessaria e sufficiente perché tutto il tubo sia contenuto qui dentro e quindi tutte le linee vadano vettoriali dalla prima armatura alla seconda è appunto che esista questa superficie allora in queste condizioni certamente prima di tutto sappiamo che la tensione è conservativa perché l'ipotesi che abbiamo fatto sempre è questa che in questa struttura non vogliamo che compaiono tensioni non conservative ma abbiamo garantito anche che la carica qua qualsiasi cosa succeda è opposta alla carica QB che sta dall'altra parte e questo vuol dire perché appunto tutte le linee vettoriali stanno sempre chiuse lì dentro è proprio il confinamento delle linee vettoriali il fatto che nascono da una parte in A e finiscano in B ci garantisce che si avrà questa condizione allora la legge di continuità mi dice che la corrente IA che entra qui è uguale alla derivata di carica che cresce qui e mi dice anche che la corrente IB che esce di qua è uguale a meno la derivata di carica che sta qui e in conseguenza visto che le cariche sono opposte viene fuori banalmente che la corrente IA che entra di qua questa è in ogni istante uguale alla corrente IB che esce di qua e quindi posso parlare di corrente di bipolo ovviamente se uno guarda dentro apre la superficie SP e guarda quello che succede si accorge che il campo di corrente non è solenoidale ci sono dei fenomeni di deposito di carica sulle armature o di prelevo di carica sulle armature però guardando le cose dal di fuori è come se ci fosse una totale continuità di corrente tra il morsetto entrante e il morsetto uscente e quindi posso parlare di corrente di bipolo ovviamente a quel punto si ricava subito che facendo la derivata della carica cioè esattamente questa operazione qua che la corrente del bipolo è c volte la derivata della tensione oppure integrando l'equazione integrale che conosciamo bene quindi un bipolo un condensatore fatto come quelli che vi ho presentato prima effettivamente è un bipolo condensatore attenzione perché non è vero che tutti i bipoli condensatori siano fatti così sono dei dispositivi strani ve l'ho già detto che sono fatti in modo completamente diverso ma i morsetti si comportano da bipoli condensatori ovviamente questi non hanno né armature né campo di elettrico nulla di quello che abbiamo raccontato bene facciamo anche qualche considerazione di tipo energetico allora questa è la formula dell'energia di un condensatore che conosciamo bene vista in rete e abbiamo visto che anzi avete visto in fisica come si definisce la densità di energia per il condensatore piano io ora vi faccio vedere molto rapidamente che quelle espressioni della fisica in realtà valgono sempre e per fare questo prendo non tutto il condensatore qua ne vedete un pezzettino ne ho estratto un sub tubo di flusso un tubo di flusso elementare che insiste su di una superficie d sigma ds la vedete qua e dal quale strago un trattino dl eccolo qui non tutta la linea vettoriale ma solo un trattino dl allora quella specie di parallelipedino l'ho detto bene che vedete individuato lì è una specie di condensatore con due superfici limite con una distanza per il quale posso dire quanto vale la tua capacità beh è banale è la permittività per la superficie che vale ds per la distanza tra le due superfici armature che chiamo dl se metallizzate le due superfici ottenete proprio delle armature abbiamo visto prima la metallizzazione no? allora quanto vale l'energia di quel volumetto infinitesimo dove si sviluppano i campi vettoriali dei fenomeni dielettrici ecco qui quanto vale allora dobbiamo calcolare la capacità moltiplicarla per la tensione al quadrato e dividere per due cioè sto applicando sto applicando esattamente questa espressione qua applicata nell'infinitesimo quindi epsilon per ds diviso dl quello che ho scritto qui diviso 2 ovviamente ecco qua il 2 e poi la tensione beh su un trattino infinitesimo è data da campo elettrico per dl eccolo qua e quindi in definitiva togliendo dl da qua dentro semplificando qua sotto ottengo questa espressione moltiplicato per ds per dl che è che è il volume di questo volumetto superficie per altezza no? certamente e allora come vedete ecco quello che sono riuscito ad ottenere se faccio il rapporto tra l'energia del volumetto diviso il volumetto stesso ottengo la densità di energia elettrostatica che come vedete è proprio epsilon per c al quadrato diviso 2 questo credo che l'abbiate visto in fisica ne sono abbastanza convinto e vedete l'ho ricavata in condizioni di geometria generica non ho bisogno di pensare a un condensatore piano per scoprire che vale questa relazione non solo ma posso dire qualcosa di più siccome il campo elettrico che sta qui è moltiplicato per epsino qua lo ho al quadrato ne prendo uno lo moltiplico per epsino lo spostamento elettrico posso scrivere anche così la stessa energia oppure se voglio anche in questo modo visto che ec diviso è uguale a d diviso epsino diciamola così quindi d quadro spostamento elettrico al quadrato diviso 2 volte epsino sono tre formule alternative identiche altrettanto autorevoli della densità di energia elettrostatica così come queste sono le espressioni altrettanto autorevoli dell'energia totale del condensatore ma qui c'è una cosa carina da dire perché qui questa espressione la posso sì valutare in quel volumetto lì preso a metà strada in mezzo al mezzo di elettrico qua siamo nel di elettrico ma posso permettimi di valutarla anche qui quindi un volumetto messo qui dove le linee vettoriali germogliano nascono e quindi dove d è espresso dalla densità di carica allora scritto lì sostituito lì viene fuori che la densità di energia elettrostatica volumica di energia elettrostatica è la densità di carica per il campo elettrico e c diviso 2 e questa quindi mi lega l'energia alla carica invece che allo spostamento elettrico anche se si corrispondono in realtà questa può essere generalizzata e si può dimostrare che la densità di energia può anche essere espressa come un mezzo la densità volumica di carica che è la definizione un po' più generale diciamo per il potenziale elettrostatico ed è pure un'espressione che funziona se si fa l'integrale di questa densità si ottiene lo stesso valore che si ottiene facendo l'integrale dell'espressione che voi avete imparato a conoscere in fisica però uno dice dove sta l'energia sta qui nel mezzo di elettrico dove vedo il campo elettrico o sta sulle superfici come mi direbbe o dove stanno le cariche come mi direbbe questa espressione qua invece la risposta è che l'energia sta nell'insieme del tutto e queste sono formule che ci rivelano la sua presenza in due modi diversi è una finezza campistica che vale la pena di avere a mente abbiamo ancora qualche slide prima di terminare la lezione parliamo delle perdite dei dielettrici ne ho parlato di dielettrici pensando gli ideali che hanno sempre la relazione che abbiamo studiato qualsiasi cosa succeda però in realtà ho fatto un piccolo cenno lì dove c'è un campo elettrico in un mezzo un mezzo non ha solo la permittività anche se è un isolante ma anche una conducibilità per quanto piccola essa sia non nulla e pertanto ha anche un campo di corrente Allora questo comportamento secondario un side effect un comportamento parsitico se vogliamo da questo punto di vista fa sì che lì dove c'è un condensatore ci sia anche un resistore affiancato ad esso e quindi fa sì che avvengano dei fenomeni dissipativi che sono minimi ma non nulli e vengono rilevati ad esempio dal fatto che un condensatore dielettrico di questo tipo ho lasciato carico a morsetti aperti vi ho spiegato non metteteci le mani perché non si sa mai che cosa succede ma se è carico appunto lentamente vede calare la sua tensione appunto per effetto di questa conducibilità interna non nulla del dielettrico è un comportamento tipico in condizioni stazionari a riposo non ho lasciato lì non a riposo aperto a condensatore aperto un altro comportamento che vale la pena di citare è il comportamento in alta frequenza perché abbiamo detto che questa equazione governa il comportamento dei mezzi dielettrici molti mezzi dielettrici hanno permittività costante si chiama costante dielettrica però ce ne sono alcuni che effettivamente si comportano così finché sottoposti a frequenze ragionevolmente basse ma facendo salire la frequenza andando verso i megahertz o i gigahertz cose del genere arrivano a scostarsi marcatamente dal comportamento lineare diventano non lineari addirittura diventano isteretici presentano isteresi dielettrica e con l'esteresi dielettrica va di conseguenza che si sviluppino dei fenomeni dissipativi ogni volta che il materiale percorre un ciclo di isteresi avviene una dissipazione di una certa energia che si chiama appunto perdita dielettrica ora questo fenomeno in molti casi può essere visto come un effetto negativo in realtà ovviamente se si tratta di funzionare in alta frequenza si vedono di usare dei mezzi dielettrici che non presidino questo fenomeno in altri casi lo si ricerca proprio per ottenere degli opportuni trattamenti industriali ad esempio usando frequenze di dall'1 ai 100 megahertz si possono ottenere termosaldature proprio per effetto delle perdite dielettriche queste perdite danno luogo a un riscaldamento localizzato che può funzionare come saldatura di materiali plastici sigillature ma si può fare anche dell'altro a frequenze ancora più elevate di qualche gigahertz come vedete sono sostanze organiche in particolare cibi acquosi e grassi che hanno questo comportamento ed è esattamente il principio che viene usato nei forni a microonde altro fenomeno diciamo parassita che si manifesta nei mezzi dielettrici è quello legato alla rottura di rigidità di elettricità che è espressa dalla rigidità dielettrica la rigidità dielettrica è questo è un valore del campo elettrico massimo che può essere applicato al mezzo dielettrico perché lui continua a comportarsi da mezzo dielettrico se questo limite viene superato avviene che succede che il mezzo dielettrico diventa bruscamente conduttore ovvero se volete la sua conducibilità diventa immediatamente molto elevata era quasi nulla diventa altissima come quella ad esempio di un metallo e allora quello che succede oppure se volete la resistività diventa bruscamente estremamente bassa e allora ecco che si manifesta una corrente nel dielettrico che prima di tutto è molto elevata e in secondo luogo anzi prima se volete si manifesta molto rapidamente ha una derivata estremamente elevata si dice ha un fronte molto ripido in altre parole è una vera e propria scarica elettrica quella che si manifesta il valore il valore di questo limite r varia da mezzo a mezzo ovviamente tipicamente viene espresso in kilowatt centimetro un po' strano invece che che volt su metro sarebbe l'unità giusta fondamentale del campo elettrico ma diciamo che se usiamo in kilowatt su centimetro vengono dei numeri più manipolabili in particolare per l'aria che è un mezzo di elettrico di riferimento importante la rigidità di elettrica tipica è di 30 kilowatt al centimetro se voi applicate su uno strato d'aria di un centimetro una tensione tra due armature con in mezzo aria distanti di un centimetro una tensione superiore ai 30 kg avviene la scarica elettrica perché c'è scritto tipicamente perché dipende anche da altri fattori come la temperatura l'umidità quindi può variare un pochino sta cosa che cosa succede dopo la scarica dopo che la scarica si è esaurita tipicamente le scariche si manifestano molto in fretta ma molto in fretta poi spariscono anche ma avvengono due comportamenti diversi a secondo che il mezzo sia solido oppure fluido i mezzi di elettrici solidi normalmente non vale per tutti ma nella stragrande maggioranza dei casi è così una volta che sono diventati conduttivi cioè che la loro resistività è andata molto in basso rimangono tali ovvero perdono per sempre le caratteristiche isolanti in altre parole viene distrutto il dielettrico e un dispositivo che ha subito questa sorte deve essere buttato via e sostituito nei mezzi di elettrici fluidi siano essi liquidi o gassosi invece dopo che è scomparsa la scarica viene ripristinato il comportamento isolante la resistività torna ad essere molto elevata e quindi il mezzo riprende le sue funzioni originali questo tipicamente succede appunto in aria ma anche in un liquido molto importante dielettrico che è l'olio minerale che si trova ad esempio all'interno dei trasformatori dotati di cassone e in tante altre apparecchiature l'ultima cosa di cui vi parlo una lezione un po' lunghetta questa ma valeva la pena di farla tutta in un colpo è il concetto di corrente di spostamento e corrente totale allora noi abbiamo individuato due leggi una con il campo di corrente e una con la legge di Gauss che adesso possiamo mettere insieme nelle forme locali eccole qua questa è la legge di continuità del campo di corrente e questa come vedete è la legge di Gauss che è relativa invece allo spostamento elettrico ora in tutte e due compare rocci allora quello che possiamo fare è sostituire a questa rocci che sta qua quanto vale cioè la divergenza di D eccola qui e allora vedete che viene fuori che la divergenza di J più la derivata temporale della divergenza di D portando tutto a primo membro quindi questo meno a primo membro diventa più è uguale a zero qui si può fare anche un altro giochino visto che la derivata temporale è indipendente dalle derivate spaziali che stanno qui almeno fino a quando non andiamo a parlare di relatività generale ma non si vede in queste piccole dimensioni che stiamo esaminando qua o di cronotopo di Minkowski non è una parolaccia è una cosa un po' strana a cui pensava Einstein tanti anni fa allora stavo dicendo scusate la digressione si possono scambiare gli ordini di derivazione qui e si può raccogliere la derivata e si ottiene che la derivata di J più Dd su Dt la derivata temporale dello spostamento elettrico chiamiamo Jt questa somma dentro parentesi è uguale a zero cioè il vettore che sta qua dentro è sempre a divergenza nulla è sempre solenoidale ma questo è un fatto molto importante perché vettori che hanno sempre la divergenza nulla hanno dei bei pregi che impareremo ad apprezzare come si chiama l'addendo del D che si somma alla densità di corrente di conduzione J per darci questo risultato allora visto che si somma a una densità di corrente merita anche lui il nome di densità di corrente ma si chiama densità di corrente di spostamento mentre questo è legato alla mobilità macroscopica delle cariche elettriche libere questo è legato alla deformazione dei fenomeni di polarizzazione elettrica fondamentalmente e si chiama densità di corrente di spostamento se ne faccio l'integrale di superficie ottengo la corrente di spostamento così come facendo l'integrale della densità di corrente di conduzione ottengo la corrente di condizione i legami con gli integrali sono davanti e come si chiama JT che è la somma delle due si chiama densità di corrente totale ecco il vantaggio il suo integrale ovviamente è la corrente totale il suo grande pregio ve l'ho appena detto è che è sempre sulle novità ovvero non ha mai né pozzi né sorgenti le sue linee non hanno punti di nascita e punti di morte quindi o si chiudono su se stesse oppure nascono all'infinito e muoiono all'infinito e come succede questo? succede perché noi sappiamo che J ha pozzi e sorgenti l'abbiamo capito benissimo sono questi ma viene che nel punto in cui J ha un pozzo lì istantaneamente contemporaneamente D D su D T ha una sorgente e viceversa ovviamente quindi pozzi e sorgenti dell'uno e dell'altro si compensano perfettamente per rendere nulli pozzi e sorgenti dell'infinito di corrente totale si può dire anche che D su D T prolunga J al di fuori dei mezzi conduttori perché nei mezzi conduttori di fatto questa prevale è quella che vediamo marcatamente dominante al di fuori dei mezzi conduttori invece c'è questa quindi è l'estensione in qualche modo D T su D T la densità di corrente di spostamento della densità dentro ai mezzi di elettrici della densità di corrente di conduzione questo lo si vede bene sull'armatura l'ultima slide poi termino lo si vede bene sulla superficie conduttrice che separa in un'armatura di condensatore dal di elettrico interposto lì dove J va a morire cosa perché muore perché ovviamente deposita carica e quindi produce una derivata della densità di corrente superficiale positiva beh aumentando la densità di corrente superficiale visto che sigma è uguale a D aumenta anche la D D su D T ovvero nasce una densità di corrente di spostamento sulla superficie dalla parte conduttrice muore J dalla parte di elettrica nasce la corrente di spostamento questo è il fatto che avviene quindi se vogliamo possiamo dire che J interno questo J qui è D D su D T esterno corrente di conduzione interna e densità di corrente di conduzione interna e densità di corrente di spostamento esterna sono tra loro uguali in modo che mutuamente spariscono i pozzi dell'una e dell'altra si compensino i pozzi dell'una e dell'altra benissimo lezione lunga densa di contenuti ma con questo abbiamo esaurito il capitolo numero 2 che è quello appunto dei fenomeni di elettrici arrivederci buono studio buona fatica spero che sia perlomeno interessante grazie a tutti Grazie a tutti.